Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo, sino al 21 dicembre, lavori di manutenzione restringono la carreggiata a corsie alterne, dalle 9 alle 18, tra l'allacciamento con il raccordo Siciniano-Potenza e lo svincolo Padula-Buonabitacolo, in entrambi i sensi di marcia. Sul raccordo Salerno-Avelino, sino al 30 novembre, nella fascia oraria 7.30-17, per lavori attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra l'allacciamento con la 30 caserta Salerno e l'innesto con la strada statale 7 bis di terra di lavoro, in entrambe le direzioni e in tratti saltuari. Sulla tangenziale di Salerno, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, per lavori è chiuso il tratto compreso tra le uscite Salabagnano e Fratte, in direzione nord. A Napoli, dalle 23.00-23.00